E' calda, è calda. Fuma, fuma, fuma. E' un'elefante, un'elefante che fanno in un bosco. Insaggine un po'. E' un'elefante che fanno in un bosco. 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 È un perci, bene. 380 kg al giorno di alberti, se mangiano il nostroовito. È un perci. остоva280 litri di呢 l'acqua, con quantoio litri avanticane all'esplome. Que仅i litri di ilini? 280. 280? 280 litri di acqua al giorno di provano. E quantoio litri sono? ho chiesto il vino sono 120 litri di pipì al giorno chiunque a chiunque non c'è l'armerga non c'è l'armerga io ho capito io ho capito ciò che cio caro ciò che cio che cio che cio che cio che cio